Telenorruti ospita Teleradio Cesso Estate, l'unica televisione che ti mostra una verità sull'estate. Adesso il Marchese Fulvio Abate fa una telefonata all'hotel Cristallo di Cortina per parlare con Eugenio Scanfer. Vediamo. Vediamo se... Allora, dov'è il numero? Sì, pronto? Sì, l'hotel Cristallo. Sì, buongiorno, sono Abate. Senta... Devo parlare con... con Eugenio Scanfer. Sì. Vabbè, attendo. Sì, pronto? Sì. Sì, come no? Sì, sì, attendo, attendo. Vediamo. Pronto? Eugenio... Eugenio Scaffari. Sì, sono Fulvio Abate. Senti. Tutto bene? Sì. Senti, ma tu lì come stai? L'Oden? L'Oden Radio Cesso Estate. Sì, al caldo. Senti, ma se io venissi lì? Io e te in Loden? No? Sì. Alperstock anche. Va bene? C'è posto lì al Cristallo? Vabbè, sì, ok. Non lo sai. Adesso mi ripassi il concierge. Parlo con lui. Va bene? Ok? Ciao. 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 Teleradio. Cesso Estate. Il marchese Fulvio Abate. Teleturruti. Muocchiamo il Cristallo.